Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Lucignolo. Io e te andiamo a vedere la balena? Ci sto. Ci sto. Ho paura. Cosa c'è? Ieri non avevo paura e oggi ho paura. Mi vuoi raccontare cosa è successo e perché stai così? Che ci faccio io con te, eh? Allora silenzio, signori. Dove ci siamo quasi? Azione! Non sarà più facile vendere una bambina? Adesso che sono una donna, un bel casino, eh papà? Apri per favore. Ti hai mentito! Guardami! Silenzio, tutti in posizione, pronti a girare? Partiamo ora. Quanto saremo io? Il tempo che ci vuole. Papà, muoviti. Cammina. Ho detto cammina. Mettiti in testa che io non ti lascio più sola. e io non ti lascio più adesso. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info